mi ha scritto paper mi ha dato la sua mail di paper serio? aspetta ora ti do il numero mi ha dato il numero ciao crazy sono giuseppe un tuo grandissimo fan ho trovato uno che si finge cup gliel'ho già scritto a lui ma non mi risponde avrei bisogno della tua giustizia ti prego mi ha fregato ventiero sto infame fingendosi cup si fa regalare skin in cambio di un saluto per esempio ti prego entra e vendicami fammi restituire i soldi persi ti do la sua mail epic per aggiungerlo agli amici oh mio dio foxy ci sei? si ci sono crazy ok allora guarda io sono è questo qua e lui è quello che si finge oh mi ha scritto mi ha scritto ciao guardalo praticamente ha la modificata di cup foxy aspetta tu sei questo qua no scusa 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 no 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 su Epic Games ehi mi sta scontinando a scrivere c'è allora foxy ti spiego perché tu non sai nulla questo qua questo qua ha truffato un mio iscritto ha truffato il mio iscritto io me ne rendo conto che ragazzi questa serie mi piace tantissimo quindi supportatela con un bel like ma purtroppo non è semplice trovare questa gente che bisogna veramente mettere a tacere anzi scrivetemi hashtag griff ai commenti se c'è qualche vostro insomma qualcuno di vostra conoscenza che fa queste cose eh chiamiamolo così allora ciao foxy allora facciamo così foxy scrivichi tu intanto questo non mi lascia pace vediamo numero mio capitan blazer come averlo aspetta ma qui ci sono dei cartelli ah vero vero leggiamo leggiamo questi cartelli ciao leggi ma come scrive ciao vuoi il numero di capitan blazer di capitan blazer ovvero il mio guarda si vince cap bene cosa semplice basta che invii una skin alla mia amicizia e poi io te lo darò ehi ciao lo sai che se vuoi chattare con me puoi trovarmi su instagram con il nome di crazy trattino basso mad e inoltre ti ricordo che il mio codice supporto creatore è cmed se vuoi giocare con me scrivimi su ista e fammi vedere che lo usi eh vado ciao te lo darò se vuoi puoi pagare puoi pagare me con paypal o pay self card ah sicuro che questo è italiano eh sì secondo me no e tu avere subito subito il mio numero e sono famoso quindi il numero si paga non lo posso darlo a tutti scissate eh foxy foxy eh ci rendiamo conto dove siamo guarda mi sa tanto di un bambino eh mi ha scritto quanti anni lì dai tu non lo so non lo so non lo so mi ha scritto mi ha scritto eh ti piace eh sì sì sono qui per questo per fortuna Foxy non ci abbiamo pensato che sono entrato con il mio account principale codice cmed forse lui non l'ha capito qual è perché ho scritto appunto codice cmed quindi spero che non mi conosca Foxy allora fai tu chatar tu con lui che ti sta dicendo a te perché sta chatando anche te penso no ah buimo numero allora Foxy iscriviti mi ha scritto mi ha scritto che ti ho scritto vuoi il numero di cap ma vai 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 dici 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 che dici che ti vuoi dare subito la skin Foxy la ce ha detto ha detto ovvero il mio si 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 va dici eh certo fai fai il fanboy fai dire mi ha scritto per avere il numero di cap devi darmi la skin oppure 10 euro paypollopay e digli che ieri di addaglio li dobbiamo dare per il video dove regi registo il video da finire in manutenzione ma va ma seriamente li devo dare 10 euro proprio per il video dobbiamo dobbiamo avere se truppa anche te è già illegale dare ma sta prendendo da me no no girovagare ah mi ha scritto ok ok cus cus dai Foxy dagli si dice mi sta scrivendo qua ci sono delle cesti che non so su cosa mi ha scritto mi ha dato la sua mail di per serio no vabbè no no io veramente Foxy casi regno per Cavallini sta la Foxy ma questo fa vita reale qua che infame skin dai miei fan Foxy abbiamo un indizio guarda là skin dai miei fan no 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 mi piccola l'ha scoperto qui cavalli non fa ste cose ok posso visitare skin tu i fan per capire per capire che tu sei reale Foxy dai 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 gli sti 10 dimmi se glieli dai è veloce non ci prova non vuole ma perché non vuole è segreto sono 10 euro si vuole fare i soldi così dimmi dimmi glieli inviati gliele inviati oddio se vediamo che fa di darmi il numero davi il numero sta scrivendo dai 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 aspetta ora ti do il numero oh bravo te lo dà veramente questo qua cioè ma vabbè ti ha scrivendo la solita si sta mi ha dato mi ha dato il numero ti ha dato un numero aspetta aspetta dimmi come finisce dimmi come finisce 9 7 non è quello di cap fra che truffatore di che non è quello di video che non è qua che infatti tienilo lì tienilo lì io intanto vado a vedere vado a vedere dai 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 ma sei bravo a chiamare il numero prova 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 provo mettiti la voce skin dei miei fan vediamo non sei raccorto non sei raccorto sono qua ok ora chiamo il numero si era girato non sei raccorto aspetta pepi ballo da 800 v bucks carlos skin da 1500 v bucks fra non puoi capire che ho trovato piccolo pro 1500 v bucks deltaplano skin 1200 carlo de gamer fra paolo gamer 99 sto chiamando il numero fra non hai capito che ho scoperto cos'hai scoperto lo posso guardare io lo sto distraendo piccone 800 v bucks fra questo c'ha tutta casa piena di tutte le skin che ha truffato e di deltaplani mi aveva ancora chiamata adesso chiamo skin 2000 vai vai giamalo 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 allora sto chiamando sto chiamando vai sta squillando sta squillando vai buonasera pizzeria mamma di no aspetta cosa zack zack e non è cup ti hai chiamato la pizzeria è una pizzeria ha chiamato una pizzeria sto imbecille ha spacciato il numero di cup per quello di una pizzeria no io l'odio ti giuro mi fanno incazzare allora Foxy tu devi venire a vedere quello che c'è qua mi hai spulso come ti hai spulso mi hai spulso dal game proprio come ti hai spulso dalla partita al gioco da tutto al party come ti hai spulso ci sono mi sta scrivendo ci sono scus ma ma perché Foxy uscito scriviamo con il suo linguaggio sei spulso c'è ti ha truffato 10 euro e mi ha detto che sei crashato e crashato ma questo veramente oi ma dove sta andando dove sta andando fra dove sta andando Foxy no vabbè Foxy spesso dove sta andando foxy dove sta andando Foxy ti condivido lo schermo Foxy non ci credo non ci credo sta andando la sua spesa e lo sto seguendo ma dove sta andando fra stand no no non ci credo Foxy mi sa che ora finisci in questi nomi cosa fa cosa sta facendo oi voglio numero please vediamo che dice ma dov'è cosa fa 10 euro Foxy guarda Foxy 1000 V-Bucks ma che cazzo no non ci compro skin avvicinati che non vedo bene guarda mi ha scritto mi ha scritto in chat mi ha scritto in chat come vedi skin fan qui a tutti i fan ma mi hai dato il numero di una pizzeria ma stai scherzando vatti grifo oh qua ci sono tutte tutte le le casse bro aspetta aspetta armi super boom guga praticamente lui ci fa vita reale qua fo esplosivo esplosivo non andare lì e qua cure perfetto Foxy ho l'esplosivo Foxy ho l'esplosivo aspetta aspetta Foxy Foxy ah per fortuna sono in canale del gruppo aspetta 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 ti do la pay safe safe card eh ok aspettami qui 20 min 20 min ok ma compra schifoso conviene si eh aspetti si io voglio voglio avere del mio idolo è fermo raga è fermo è l'occasione giusta è l'occasione giusta è l'occasione giusta però paga dopo ma paghi di cielo si si tra 25 min pago pago ragazzi mamma mia Foxy ci sei Foxy Foxy oh scusami allora bro ti invito veloce vai vai ti invito e gli griffiamo tutto madonna non deve rimanere più nulla sto qua ma hai già gli esplosivi si 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 ho gli esplosivi entra foxy hai idea di quanta roba c'è fra fra con questo vai 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 scocchiamo tutto vieni 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 sto infame ti ha anche truffato 10 euro sto qua ok ok vai vai andiamo 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 veloce oh no no aspetta dove andare là dentro dove ha scritto il tuo nome dove ha scritto il tuo nome vai 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 prima che se ne accorge Foxy c'è spelle prima che se ne accorge c'è spelle Foxy veloce tre due no 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 aspetta tutto deve scoppiare vai 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 foxy foxy veloce deve crollare tutto foxy crolla tutto ma così impara bimbo bimbo ci sei oh mi ha scritto ci sei sì arrivo che succede Foxy vuoi prendere altro materiale bro non se ne accorto mi sa non se ne accorto ragazzi è tornato eh eh che fai eh eh sono tornato ora raga raga non è ancora completamente tutto distrutto che madonna rosico dov'è no io ho scoperto scoperto tu mi ha ucciso tu non sei cap io sono crazy mad e tu verrai denunciato alla polizia ti ho scoperto Foxy era la mia talpa ti faccio video contro eh sì video contro a chi bimbo che non sei altro no eh sì 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 bimbo ti ho tu mi hai rotto tutto tu domani andrai in carcere per quello che hai facciamolo cagare fatto oppure o restituisci tutti i soldi bimbo vediamo che dice hai schifo ora faccio lo suo app ai miei fantisegnino o dai i soldi a tutti quelli che hai truffato oppure oppure tu oppure tu eh verrai denunciato addio e l'ho detto fango che non sei altro sei un fango sei fango sei cosa fai sta costruendo cosa fai sei un fango schifoso schifoso come ti chiami vediamo se lo dice vediamo se lo dice il karma colpirà il karma se non ridà re supremo si chiama ma che nome è il re supremo ragazzi che dire io senza dubbio vi farò sapere come finirà questa storia re supremo si fa chiamare questo qua lo vedremo lo vedremo ricorda il mio nome crazy mad farò vendetta sì 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 io vi farò sapere se questo imbecille restituirà tutti i soldi scrivetemi hashtag griff qua sotto se c'è qualche vostro malintenzionato amico che fa queste cose perché la giustizia di crazy mad verrà a colpirlo senza dubbio detto questo che dire il re supremo il finto capitan blazer oggi ha pagato speriamo di non farlo più io ti troverò e ti grifferò lo vedremo lo vedremo lo vedremo grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti.